Ciao a tutti sono Fox e benvenuti e bentornati in questo nuovo video Questo è un vlog molto veloce Non per dirvi che sarò in live ma per dirvi che probabilmente fino a settimana prossima non usciranno video Ma volevo spiegarvi il perché Perché voglio essere giusto verso di voi E comunque mi avete già scritto, mi avete chiesto perché sono un paio di giorni che non escono video Quando tornerà la carriera allenatore Visto che sta settimana non è ancora uscito Io ho già registrato il primo episodio della seconda stagione Solo che non riesco a trovare il tempo per editarlo Certo potrei farlo adesso ma tra pochissimo devo andare a mangiare e mi sono appena svegliato Oggi non penso di aver tempo Perché questo? Come per molta altra gente l'otto è finita la scuola Quindi prima ci sono state feste, pizzate e ho dovuto dare una mano ad organizzare Comunque ho dovuto partecipare E quando partecipi a una festa non puoi editare i video Da giovedì pomeriggio ho cominciato e sto continuando ancora adesso a cercare lavoro Sono andato in un gran centro commerciale vicino a casa mia diciamo Ho chiesto informazioni per il curriculum, cioè per il lavoro Ieri sono andato a portare il curriculum in tutti i negozi in cui ho chiesto e anche altri Anche il mcdonald E anche io comunque essendo estate voglio quelle due, tre urette di svago Magari la sera, magari il pomeriggio Che non ho durante il resto del tempo Se domani riesco a editare, a fare qualcosa Comunque sicuro il video uscirà lunedì Spero di riuscirci Se no lo vedrete comunque lunedì in qualche modo Mi voglio impegnare, voglio buttarmi bene a fare le cose Comunque spero che questo brevissimo video di spiegazione vi sia piaciuto In questo caso vi invito a lasciare un piacere, commentare, iscrivervi E noi ci vediamo probabilmente lunedì con un nuovo video Ciao